41 afghani sbaccano a Calamosca a Vendicare. Nuovo sbarco di migranti nel Siracusano, mentre ancora si prende le pagine dell'attualità in un momento molto delicato, dopo il caso di Ciotti. Sono infatti i 41 migranti intercettati dagli uomini della Guardia Costiera durante un pattugliamento presso la riserva naturale di Vendicare nel comune di Noto, in provincia di Siracusa, presso la strada provinciale di Calamosca. I 41 migranti sono stati avvistati dalla Guardia Costiera a bordo di una barca a vela, un'imbarcazione di 10 metri che è stata immediatamente posta sotto sequestro dopo lo sbarco. Non ci sono però stati problemi per lo sbarco dei migranti. La barca a vela era in condizione precaria in mezzo al mare e l'operazione di soccorso è stata completata immediatamente anche se restano degli aspetti da chiarire. I primi ad accorgersi che dalla barca a vela stavano sbarcando i migranti sono stati dei turisti che stavano facendo il bagno a largo. Circa 30 persone sono state bloccate subito sulla battigia. Le forze dell'ordine sono riuscite a intercettare anche due ucraini che avevano già raggiunto in precedenza Noto e si trovavano nei pressi dello sbarco. Secondo la Guardia Costiera ci sono degli elementi concreti per considerare degli scafisti e dovranno per questo rispondere all'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tra i 41 migranti sbarcati a Noto il gruppo Interforzo di Siracusa sottolinea che sono di origine afghana e all'interno del gruppo ci sono anche 5 donne e 13 minori.